Grazie a tutti è stata una partita molto equilibrata quindi il dispiacere c'è per il risultato per la squalifica, per la mia espulsione sono veramente avvelenato una squadra forte noi abbiamo cercato di fare la partita come l'avevamo preparata i ragazzi sono stati bravi abbiamo commesso un'ingenuità sul gol perché da una ripartenza nostra non potevamo riprendere un'altra ripartenza in quella maniera lì siamo andati tre giocatori contro uno esternamente abbiamo lasciato l'altro centrale quindi c'è stato un piccolo errore però succede bisogna andare assolutamente avanti a me sembrava rigore poi non lo so se l'arbitro non l'ha visto a me sembrava rigore due passi negativi adesso testa alta cioè non eravamo dei fenomeni prima e non siamo scarsi ora lavoriamo bene in settimana quindi siamo sicuri che i risultati torneranno dalla nostra parte è stata male ma credo che la squadra non abbia meritato il complesso il risultato alla fine purtroppo bisogna accettarlo e credo che comunque sia stato fatto di tutto per fare il meglio probabilmente non avremmo rubato nulla con un pareggio ma il risultato mi sembra che alla fine dei conti ci possa anche stare adesso più che mai ne hanno assolutamente bisogno quindi assolutamente per i tifosi bianco-rossi è il momento di stringersi vicino a questa squadra sono molto arrabbiato perché perché non mi va di essere putato fuori in una maniera del genere quindi è la parola mia contro la sua per cui ha poco conto quindi pagherò sicuramente ma non va bene cioè non va bene non va bene assolutamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti